A Domodossola nel 2022 gli incidenti stradali rilevati dalla polizia locale sono stati 62 a fronte dei 71 dell'anno precedente. 10 invece i feriti aumentano le violazioni al codice della strada, più 41,40% rispetto ai 12 mesi precedenti. A fine dicembre infatti la polizia municipale domese ne aveva rilevati 11.418, che tradotto in soldoni per le casse del comune domese vuol dire 355.625,72 centesimi. I dati arrivano dal consuntivo di un anno di lavoro dei 12 agenti in servizio presso il comando di piazza Mellerio a Domodossola. Numero decisamente sufficiente sarà portato alla dotazione organica ottimale fissata dalla legge regionale in 22 unità per la città di Domodossola. Nel corso dei controlli effettuati sulle strade cittadini gli agenti hanno provveduto al ritiro di sette patenti, mentre i punti decurtati agli automobilisti indisciplinati ammontano a 1.070, nel 2021 erano stati invece 1.045. Aumentano anche il numero dei veicoli rimossi, passati da 119 a 192. Lo scorso anno i veicoli sottoposti a fermo sono stati 88, 434 quelli in circolazione senza essere stati sottoposti a revisione, 82 quelli in viaggio senza assicurazione RCA. Gli automobilisti multati perché sorpresi alla guida con cellulare a Domodossola sono stati 5, l'anno precedente erano stati 31. 840 invece i verbali per divieto di sosta per pulizia delle strade. Per quanto attiene le funzioni di polizia giudiziaria, 51 sono state le comunicazioni di notizia di reato inviate alla procura della Repubblica di Berbania. Si va dalla denuncia per molestia di due persone a gennaio a quella di febbraio per tre soggetti che hanno realizzato opere edilizie senza autorizzazione paesaggistica. Gli agenti hanno anche individuato e denunciato un percettore di reddito di cittadinanza per falso ideologico. L'indagine più complessa è senza dubbio quella conclusa a maggio relativa all'individuazione del responsabile degli atti vandalici e dei furti commessi a danno del cimitero di via Torino. A giugno invece è stato denunciato a piede libero il responsabile di un'aggressione avvenuta in pieno centro ai danni di un'altra persona. In autunno e ancora in inverno l'attività investigativa degli agenti della Polizia Municipale di Domodossola ha portato all'individuazione dei responsabili di diversi danneggiamenti avvenuti nel centro storico e danni di beni pubblici e privati.